Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Buckingham Palace, terribile disgrazia travolge la famiglia reale, una grande perdita per la Royal Family, sarai per sempre nei nostri cuori. Lui se n'è andato all'improvviso, lasciando un vuoto nelle vite dei famosi reali. Che grande shock. Tragedia a Buckingham Palace, lui è scomparso improvvisamente lasciando un forte vuoto e un grande dolore nelle vite della famiglia reale. Ecco chi ha abbandonato la vita terrena. Tragedia a Buckingham Palace Numerosissime volte la sede di Buckingham Palace è stata nominata dai mass media nazionali e internazionali per essere stata teatro di belle notizie, drammi ma anche curiosità e sciagure. Purtroppo, le ultime news che arrivano dal Regno Unito non sono per nulla buone. La Royal Family torna di nuovo al centro dell'attenzione ma per una terribile tragedia che ha sconvolto tutti, proprio lui se n'è andato improvvisamente lasciando un vuoto incolmabile nel cuore e nelle vite dei reali che hanno avuto a che fare con lui. Arriva il post social di una famosissima coppia della dinastia dei Windsor che, con il cuore spezzato, manifesta apertamente il cordoglio nei confronti dell'amico scomparso. Che cosa è accaduto? Chi è che è venuto a mancare? Il post strappalacrime ha emozionato il mondo. Se n'è andato per sempre, il lutto travolge la Royal Family terribile dramma per la Royal Family, lui è morto. Si tratta del Ranger Anton Zimba che è stato freddato con colpi di arma da fuoco da tre banditi nella sua casa nel Bushwackridge, martedì notte. Secondo alcune indiscrezioni, l'uomo sarebbe morto sul colpo mentre sua moglie, sparata allo stomaco, sta ancora lottando in ospedale per salvarsi la vita. Anton Zimba, preso di mira da un gruppo ribelle intenzionato a punirlo per le sue lotte contro il bracconaggio, perde la vita per mano di alcuni balordi. L'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle 19 di martedì 26 luglio ma la notizia è trapelata solo ora. La sparatoria è avvenuta dinnanzi agli occhi del figlio della coppia che ha tentato di aiutare i genitori ma senza successo. Gli uomini accusati dell'omicidio sono fuggiti a bordo di un'auto bianca e non sono stati ancora rintracciati ma la polizia sta facendo di tutto per catturarli. Intanto, il duca di Cambridge ha il cuore spezzato e attraverso il suo profilo Twitter, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di Anton Zimba. Queste le parole apparse sul profilo ufficiale, Anton Zimba era molto conosciuto nel Regno Unito ed era considerato un vero e proprio paladino della giustizia del mondo animale. Da anni si batteva contro il bracconaggio, è stato un ricercatore che ha lavorato anche per la riserva naturale privata di Timbavati dal 1997 e nel 1998 è diventato invece un capo Ranger. La sua morte ha lasciato un profondo dolore e un vuoto incolmabile nella vita delle persone che lo hanno conosciuto e anche nel principe William che da questo omicidio è rimasto profondamente sconvolto. Il duca di Cambridge si batterà affinché i colpevoli di questa terribile e ingiustificata strage siano catturati ed assicurati alla giustizia. Intanto i sudditi commentano, sarai per sempre nei nostri cuori. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!